Gioca questa parte, non è andata solo Stai vicino a questo Che gli fa giocare? Va, oh, una qua No, no, no No, no, fortuna No, 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 no No, no, no Il barretto è per classe Ma lui è il mancanio È tutto da Isra Il barretto è fatto perché Grazie a tutti.